Siamo pronti, Valentino Rossi lato pista, Tonica e Nori lato boxe, la sfida è pronta, è caldissima, è forte! Veloci, veloci, Valentino Rossi va a cercare la giostra, la trova in questo momento, la staccata, inserimento della sua forfocus nel giro di giostra, uuuuh, ragazzi, che giur di giostra ci ha regalato Valentino, e via, via veloce, persona, i gas sulla sua partiesta, e prima parte, arriva Tonica e Nori lato boxe, che in questo momento va alla ricerca del suo aperto cambio di direzione, Tonica e Nori lato boxe, e c'è il quarto cambio in direzione per la giostra, ma si trova la DS3 di Tonica e Nori, che asserteggia all'interno dell'inseguenza di punte, che lo porterà fino alla giostra, giostra che ha già provato da in fondo, vediamo come la interpreta Tonica e Nori, inserimento della giostra, è leggermente più largo rispetto a Valentino, ma non tantissimo, dai, il primo, il secondo, e poi via, è pronto a lasciare un attore per i bambi, Grazie Grazie Grazie